numeri in crescita nonostante guerra e pandemia moda makers la fiera internazionale delle piccole e medie imprese produttrici del fashion made in italy torna a moda in affiere dal 10 al 12 maggio e lo fa con numeri in crescita in occasione della tredicesima edizione della manifestazione si registra un aumento di imprese partecipanti che sveleranno ai visitatori provenienti da tutto il mondo le proprie collezioni primavera estate 2023 una quarantina le aziende che ad oggi hanno scelto di esporre un interesse frutto anche dell'importante traguardo recentemente raggiunto dalla kermes che ha fatto sì che moda makers abbia ufficialmente ottenuto il riconoscimento di fiera internazionale venendo così inserita nel cartellone relativo di appuntamenti è la seconda edizione che si svolgerà nel nostro quartiere in presenza è la prima che avrà la qualifica di internazionale che è stata ottenuta al termine della prima edizione che si è svolta qui a modena nel quartiere feristico questa edizione è un'edizione che si presenta con numerosi segnali positivi nonostante la situazione attuale non sia certo quella più favorevole dal punto di vista della congiuntura la guerra in ucraina certamente ha non ha contribuito a favorire la presenza e non contribuirà a favorire la presenza di operatori esteri ciò nonostante la manifestazione vedrà una crescita importante di aziende partecipanti perché siamo oltre 40 aziende partecipanti con un 17 per cento di crescita rispetto alla prima edizione che si è svolta qui nel nostro quartiere quindi di questo siamo molto molto soddisfatti e abbiamo anche segnali positivi dal punto di vista dei visitatori soprattutto dei visitatori europei ci sarà infatti una delegazione organizzata dalla camera di commercio austriaca con 12 buyer e una delegazione organizzata dalla promos che vedrà un partorio buyer da cinque paesi europei quindi anche da questo punto di vista ci aspettiamo importanti e significativi crescite rispetto a quello che è stata la prima edizione cuore pulsante della manifestazione dedicata alla moda femminile saranno naturalmente le aziende del distretto di carpi a cui si aggiungono realtà provenienti sia dal resto della regione che da tutta italia per i buyer sarà possibile toccare con mano le tendenze protagoniste della prossima stagione grazie a migliaia di articoli di confezione tagliato camiceria maglieria e capi spalla una possibilità per scoprire la qualità del made in italy unite alla cura artigianale del dettaglio tipica della tradizione delle piccole medie imprese capaci di innovarsi attraverso però la ricerca continua sulle nuove tendenze così come l'attenzione all'innovazione dei materiali e alla sostenibilità della produzione